Siamo al terzo appuntamento di Terre degli Uffizi. La Fondazione CR Firenze collabora con un'iniziativa territoriale che ha uno straordinario vantaggio, quello di coniugare il territorio con il grande patrimonio della Galleria degli Uffizi. Qui a Scarperia era naturale mettere a fuoco la presenza medicea, la presenza medicea in Mugello, un luogo originario della grande famiglia. La raccolta di ritratti che formano la mostra odierna è una selezione molto pregiata e attentamente selezionata di alcuni dei protagonisti della nobile casata medicea. Quindi è una bellissima occasione per riscoprire il territorio, per venire a Scarperia e per capire che la Fondazione CR Firenze ha molto a cuore la collaborazione con la Galleria degli Uffizi, ma anche con le amministrazioni dei territori. E quindi la mostra è una sigla perfetta, una sintesi assolutamente organica di questa volontà che non è soltanto storico-artistica ma anche e soprattutto civica.